bella combricola buongiorno eccoci allora oggi che si fa di bello si lavora come sempre come tutti i giorni cosa si fa di bello di bello sarebbe stato essere sbriati su una spiaggia con un gelato in mano no due mohiti non beve manco beve due mohiti analcolici analcolici ok va bene no due mohiti analcolici non analcolici ma se non bevi e vabbè comincio a bere un po' di ricatino il ragazzo eh cosa faccio oggi adesso ve lo spiego subito a dopo buona giornata ok adesso andiamo a togliere il coperchio della batteria perché voglio giustamente come ci hanno consigliato come ci hanno consigliato diego e dronadi diego ci ha consigliato di mettere il corrugato sui cavi per conservarli e giustamente ha ragione cioè di far passare i cavi nel corrugato far passare i cavi nel corrugato si e dronadi ci ha detto di dronadi ci ha consigliato di mettere la guarnizione dove ho fatto il foro in modo che il cavo rosso poi col tempo non si tagli e va a far corto circuito col telaio del col telaio della tecamperos quindi accetto tu due consigli metto la guarnizione e in più li metto che il corrugato così almeno addirittura siamo a posto è sempre meglio fare le cose fatte bene dai va bene quindi rispiamo il lavoro ma per fare la cosa a fare il tempo zero veniti spettacolo finchia va questo trapano è spettacolare davvero perfetto ok pensa a te se ne dobbiamo fare ogni volta sto lavoro per verificare la batteria quindi attenzione eh oh il contenuto è questo guarnizioni vedi ah si è vero così non ho già avuto anche quello che dicevamo l'altra volta ma dobbiamo togliere la batteria quindi adesso? no come togliamo la batteria? adesso stacco il negativo e interrompiamo il contatto allargo il foro mettiamo il corrugato e rimettiamo i cavi va bene ok dai gli ho messo il tubo corrugato gli ho messo una piccola guarnizione qua attorno un po' di nastro isolante per tenere fermo il tutto poi magari li metto anche un po' di nastro americano gli ho messo la guaina fino a sopra ho infilato il tubo corrugato fino a dentro all'interno del camper così almeno sono belli protetti anche dagli intemperi e tutto bene va beh sì dai c'è un po' di nastro qua non importa perché tanto è dentro nel gavone quindi non succede nulla no ma dico un nastro lì che hai fatto e qua l'ho fatto per tenere la guarnizione che ho fatto al momento ho preso un OR piatto che l'ho messo dentro e basta ok va bene perfetto questo è il lavoro aggiornato ok allora per la serie fare disfare sempre lavorare eccolo qua ancora ha tolto tutti i cavi che avevamo infilato lì per farli passare in un corrugato molto grande inizialmente ci ho pensato ho detto tanto adesso dietro al divanetto in effetti non è che i cavi si rompono da soli però dopo ci ho pensato ho detto vabbè il corrugato se lo metto o glielo metto più grande così domani in caso che devo far passare dentro altri cavi non devo i cavi sotto qua spostare il divanetto spostarla così più immediata come cosa intendi più pratico esatto e quindi e quindi niente anche perché ce l'abbiamo già questo grande tubo e allora veda c'ho il grande tubo io c'ho il grande tubo c'ho il grande tubo intanto Kiko è giù un garage che ci sta facendo cosa? filma, filma Kiko che stava facendo il mobiletto del bagno ah il mobiletto del bagno il famoso mobiletto che dicevo l'altra volta questo qua la cassa panca piccolina la cassa panca qua praticamente qua qua adesso la parola qua va per la maggiore quindi magari dopo andiamo a vedere cosa sta facendo Kiko no ma ragazzi ma veramente tante volte mi dico ma non finiremo mai mi sembra di fare un passettino avanti e due indietro un passettino avanti e cinque indietro non è così amore? bah si è vero che vabbè torni indietro per fare un lavoro fatto meglio quello sono consapevole anche io però vabbè va bene dai allora vediamo Kiko cosa ci riserva buongiorno saluta i nostri fericini buongiorno cosa stai facendo di bello raccontaci stai facendo il mobile del bagno senza tagliare le squadrette solo che non c'è niente di facile perché è tutto fuori squadra giustamente come deve essere ah si? e va bene normale la parente del camper fa così da parte fa così dietro il mobile però deve essere e no scusami il mobile deve essere anche quello lì spostato all'indietro quindi non c'è una squadra che sia unita quindi è una cosa un po' complicata insomma va bene adesso non lo disturbo lo lascio lavorare e ci riaggiorniamo dopo quando il lavoro diciamo è un po' più in là a dopo ok alla fine cosa ho fatto? ho fatto passare i cavi nel corrugato poi il mio cervelletto frulla ho pensato diciamo se un domani deciderò di far passare altri cavi nel corrugato quindi dovrò far passare tipo la salina o quello che sarà se metto i cavi così alla cavolo alla cavolo di cane se torciglierà il tutto allora cosa ho fatto adesso? ho ritirato indietro ancora tutti i cavi e ogni tot centimetri li sto lastrando belli uniti che dici? che dite voi amici? datemi sempre consigli che io accetto intanto qui non so se vi ricordate quindi c'era un mobile una cosa che aveva insolata così no qui c'era la base della stufa truma quindi adesso Marco schiuma no non schiumo perché ho provato a schiumare ma la schiuma espansa la cazzata della schiuma espansa che la usi una volta e poi se non la usi subito la butti via praticamente non so per quale motivo ma è così quindi abbiamo usato per il bagno in un'altra venone però alla fine è quasi usato in un progetto gira le balle vabbè che aveva speso 10 euro 10 euro buttati nel cesso una volta vabbè ecco l'ho fatto la minso ecco l'ho fatto questa base e poi prima c'era il taglio adesso l'abbiamo passato poi qua avrei coperto tutto e c'è tutto il telaio tagliatelo fuori riusciamo a recuperare tre cassetti da metterci le calze le mutande lo spazio non è mai sufficiente perché ne abbiamo pochissimo ne abbiamo proprio poco ne abbiamo davvero poco bisogna vedere come fare eh sì adesso vabbè tutto vuoto però qua c'è il frigo qui niente avremo quei due cassettoni questo anzi tre con quello che manca tre cassettoni e questo armadio qua deve mettere le cose appese per quello vogliamo recuperare un po' di spazio e questo niente cosa facciamo spacchiamo in un momento gli arrivo sugli appiani via quello questo via va di scarica metti tutto qua che poi dividiamo tutto adesso stanno mettendo il Sicaflex sulle parti della mensola che va sotto quante bombolette abbiamo comprato di Sicaflex ti ricordi te? per fare l'isolamento del tetto tra tutto tra isolamento del tetto isolamento dei finestri dei vetri una quindicina e di più di quindici penso una ventina di Sicaflex che abbiamo preso ci sono partiti solo in Sicaflex praticamente 300 euro almeno meno 300 euro sì chico capo ci sei? sì ti stai tormentando? più o meno chico dormi vai devo salire io con il mio dolce peso? sì dai ecco qua il deflettore questo deflettore l'abbiamo fatto in Lexan perché ho fatto fare preventivi a 5 vetrai diversi siamo partiti dal preventivo di 600 euro fino a un massimo di 1000 euro per questo pezzettino di vetro solo perché è un vetro convesso ho trovato un vetraio che ci ha chiesto 300 euro tramite un ragazzo che ha commentato sul gruppo della BAS si chiama Motorum EV Glass di Fiorenzuola prezzo più basso che ho trovato 300 euro per un deflettore veramente basso però comunque mi scoccia spende 300 euro per un 50 cm per 30 di vetro alla fine abbiamo deciso di farlo in Lexan è il fratello del Plexiglas molto più resistente e niente usiamo questo andiamo a a metterlo andiamo a installarlo hai dovuto smontare cosa Chico tu qua? c'era uno spessore per il vetro vecchio penso ma non è fuori magari vado giù che riesco a riprendere meglio attenzione a questa operazione particolare mettiti qua in mezzo che vedi tieni lui fa la ventosa tieni lo spinto tieni sempre spinto guarda che bravi guarda che due io non vedo vedo io vedo io non è bianco non è bianco dopo c'è la pellicola ci sono ci arrivano dai credo è felicino no dicevo a te non è felicino come? no l'abbiamo finito per quale motivo? aspetta Chico però qua dall'altra parte del vetro dice che dobbiamo siliconarlo dentro non ho capito perché andiamo a vedere e cercare di capire cosa intendi se no prova a sollevarti prova a sollevarti perché passa l'aria intendi Chico scassa balle madonna è pesante è bravo nostro figlio ma è pesante l'ultima volta l'ultima volta che mi hanno detto vieni dentro sei nato te lo sai e ancora che pirna Marco ma si può adesso devo tenere io ma non ho la mano così lunga che riesco a tenere sia un angolo a destra che un angolo a sinistra aspettate che vi faccio vedere non mi ricordo più se lo abbiamo già mostrato se no gli specchietti vi ricordate i soffietti che ha fatto Chico con la stampante 3D ecco Marco li ha montati l'altro giorno sia di qua che di là ciao stiamo tirando via la pellicola ma che bel lavoretto che sta venendo allora ormai si sta facendo buio ma Marco è ancora a lavoro ma questo non si accorge che non ci viene niente perché non avendo i pannelli solari noi possiamo lavorare solo fino a cert'orario ma io oggi sono in casa qualcosa a fare in casa e quindi lui guida solo a fare il lavoro del tubo di infilare i cavi nel tubo ma vediamo ma ci stavamo chiedendo ma non ti accorgi che sta diventando buio ti stavo chiamando a casa davvero non si vede ma davvero non si vede niente è inutile che filmo dentro forse no vieni giù non si vede non lo vedete no non ti vedo neanche in faccia è già diverso così ti vedo devi dire che sono cotto ci la lascio qui cosa è che ti devo aiutare a fare cosa è che ti devo aiutare mi aiutare a a passare i cavi ok arrivo scusate ma dove non mi chiama vado grazie a tutti grazie a tutti